La parola ad Andrea Quartini. Sì, grazie Presidente. Giusto per annunciare che appunto il gruppo del Movimento 5 Stelle vota a favore della mozione che condividiamo al 100%. Riteniamo che il commissariamento sia un atto dovuto, non altro. E da questo punto di vista, diciamo, insistere perché a livello nazionale venga commissariato il Forteto sia anche la capacità del sistema di rendere un po' di giustizia a soggetti che sono stati annientati. Io credo che sia doveroso da parte nostra sempre avere in mente la protezione e la giustizia da dare a soggetti fragili. In questo caso si parla di bambini, si parla di violenze inaudite. Io credo che non possano prevalere interessi di partito o bisogni di difendere cooperative. Credo che questa sia una riflessione doverosa e invito anch'io a riuscire a raggiungere un'animità su questa idea del commissariamento. Mi sembra che alla fine ci sia un po' una contraddizione nel modo di esporre, perché tutto sommato tutti quanti hanno detto che era doveroso fare il commissariamento. Quindi non vedo perché dovremmo dividerci su questo.